allora oggi sono qui per fare una prova e ho pensato di registrare questo video così in modo che possiamo condividere dunque comincio con una guida di carta con un goniometro mi sono calcolato 15 gradi che è l'angolo di affilatura che io al maestro coltellinaio che mi aveva realizzato questo zuba avevo chiesto e ogni tanto gli do un'occhiata così poi in realtà filo a vista però per avere un punto di riferimento iniziale ed essere come dire un po nell'orientamento circa giusto e poi non è come avere uno strumento un robot però almeno almeno ti rendi conto volta per volta le pietre sono già state rettificate e quindi parto con il movimento che che vi mostro adesso qui vado un po di fretta nel senso che ho accelerato il video per non annoiarvi perché questa fase dura cinque minuti buone non ci avrebbe senso farvela vedere tutta va bene fatto un po di passate vado a verificare se si è formata un po di bava sulla sul lato opposto della della pietra per controllare la bava io preferisco sempre dargli una sciacquatina perché così insomma la sento la sento meglio mi aspetto che ce ne sia un po perché se non ce n'è vuol dire che non ho affilato niente con una pietra di questo tipo è una grana 600 devo dire la verità ce n'è un po poca e quindi cosa faccio decido di continuare con un'altra passata e quindi si si ricomincia accelero ancora il video vediamo tutta la fase di solito ne faccio una cinquantina e poi torno a sciacquare e torno a controllare la presenza di bava ecco naturalmente a questo punto ce n'è di più mi ritengo soddisfatto e poi vado a passare la la pietra con cui di solito io elimino la bava vado quasi di piatto perché questo usuba ovviamente è affilato solo da una parte è un asimmetrico ed è piatto dall'altra essendo di produzione italiana per quanto con tecnica giapponese comunque il lato piatto è piatto veramente non ha il classico incavo di dei coltelli asimmetrici giapponesi è difficilissimo da fare in italia perché servono delle mole a larghezza veramente molto molto ampia si va addirittura fino a un metro e mezzo e in italia sono introvabili uno se lo dovrebbe fare apposta per fare quel lavoro e va bene tutti i controlli del del caso e poi vado a verificare il pomodorino allora qui facciamo la prova naturalmente il coltello taglia taglia in modo normale per quelle che sono le normali esigenze di cucina molti cuochi si fermerebbero così io verifico su vari lati del del pomodorino poi tra l'altro verifico un po a due o tre punti della della lama per essere sicuro che insomma la filatura sia omogenea poi però siccome io sono appassionato e non mi accontento del fatto che il coltello tagli passo alla fase successiva quindi cambio la pietra a questo punto mi vedete mettere una 3000 comincia già ad essere una pietra medio fine normalmente chiamiamo pietra fine le mille vado a pulirla con una pietra nagura quella piccola che mi vedete usare e a questo punto si riparte nuovamente con con le passate solite ok mi vedete a ricontrollare nuovamente la bava giro ulteriormente bava lì non ce n'era quasi più ho solo dato un colpetto di pietra giusto per per essere certo di portar via più che altro i detriti ho cambiato la pietra per affilare sono passato ad una 8 mila quindi siamo a valori già alti poi gli aponesi arrivano anche fino a 20 mila 30 però in italia siamo già valori piuttosto alti qui vado di fretta faccio una cinquantina di passate pure qui vado a sciacquare qui è importante sciacquare controllo la bava naturalmente non ce n'è infatti vedete che non faccio nessuna operazione per tirarla via e vado direttamente a far la prova di taglio ovviamente il coltello a questo punto taglia parecchio di più tenete presente che non sono neanche pomodori pomodorini sodi sono buonorini e mia moglie ci aveva in frigorifero da da un bel po e quindi sapete che i pomodorini quando cominciano a diventare un po vecchi si tagliano più difficilmente quando sono freschi e sodi si tagliano facilmente no però insomma sicuramente più facilmente va bene perché siamo passati ad immagine statica perché lì io praticamente ho voluto fare una seconda un secondo giro di affilatura perché il coltello taglia veramente bene ma io so che quel coltello può tagliare anche di più e quindi non sto a farvi rivedere tutto il giro che ho rifatto tale quale quindi ritornando alla 600 per poi passare alla alla 3000 e quindi ancora la 8000 sempre con i controlli intermedi di di bava e rimozione per portare il coltello a livello quindi in sostanza quel movimento diagonale eh che ho fatto sull'usuba è stato soddisfacente rispetto al movimento eh a 90 gradi che normalmente utilizzo forse un pochino meno efficace però devo dire che ci vuole metà del tempo per fare tutta l'operazione perché col movimento che faccio di solito ci impiego parecchio di più va bene adesso che cosa faccio eh adesso passo al secondo coltello e va bene sono passato quindi alloianaghiba rifaccio la prova con lo stesso criterio cioè tentando di affilare in diagonale però guardate adesso io non vi faccio vedere tutto il video però ho provato più volte ma c'è niente da farne cioè andavo a fare i controlli con sia per la bava che si vedeva già in partenza che ce n'era così poca che si capiva che aveva affilato ben poco poi anche le prove di taglio col pomodorino non ne parliamo cioè tagliava niente ci ho provato varie volte adesso qui non solo velocizzato il video ma alcune parti ve l'ho proprio tolte perché vi annoierei per niente in post produzione ho cancellato alla fine sono dovuto passare a quello che è il mio solito stile di di affilatura lo vedete perpendicolare praticamente alla lama o se per verità 90 gradi come volete ecco e qui invece la differenza si è sentita quindi dici va bene magari sei tu che non sai affilare vabbè io sono sempre io quindi che lo faccio in un verso che lo faccio in un altro se non sono capace non sono capace in tutte e due i versi e se sono capace sono capace in tutte e due i versi oppure l'angolo che è diverso ma neanche quello perché appunto l'angolo io lo tenevo uguale quindi non lo so diciamo che quello stile sullo yanagima su questo yanagima non mi ha soddisfatto particolarmente ho deciso comunque di riprovarci magari nel frattempo provo a sentire un po i miei maestri affilatori a rutini uno il coltellinaio che ha creato il coltello e l'altro invece che si chiama salvatore un passant salvatore tarantino e poi provo a sentire anche leonardo che il maestro che mi ha fatto il corso di di affilatura per vedere se ci hanno qualche consiglio se no niente poi ci riprovo con più calma ma se il risultato è lo stesso torno praticamente ad affilare almeno lo yanagima col mio solito stile che invece ha sempre prodotto il risultato che volevo io a questo punto ci lasciamo sostanzialmente così movimento diagonale per l'usuba la prima parte del video mi soddisfa e va bene movimento diagonale sullo yanagima non mi ha soddisfatto particolarmente quantomeno non mi soddisfa come come il movimento perpendicolare che faccio di solito e con queste immagini vi saluto ciao